Dopo una bellissima vittoria a Firenze, questo pareggio casalingo col Cagliari rovina anche un po' quella che era stata un'Inter in ripresa. Sì, si può dire, perché oggi non possiamo stare contenti con questo risultato, perché quando si gioca a casa si deve vincere. Sì, cosa voglio dire, sono due punti persi. Ma come mai, anche dal punto di vista fisico, è un Inter che rispetto a una settimana fa sembrava un po' più in difficoltà o no? Sì, non lo so, è difficile. Cagliari aveva stato molto convinto qua e hanno subito pressato il primo tempo alto e hanno fatto abbastanza bene. Ma sicuramente, secondo Tento, loro non hanno fatto più niente, sono rimasti tutti dietro e noi avevamo avuto le nostre occasioni, ma non abbiamo fatto gol. Questa è la realità e dobbiamo lavorare tanto su questo. Ci invita a capire una cosa, perché sembra un Inter stanca fisicamente, ma poi negli ultimi minuti avete giocato bene, se aveste giocato prima anche così forse magari avreste vinto. Sì, ma diciamo così non puoi neanche fare 90 minuti sempre pressing perché giocano anche gli altri, ma devi sempre anche stare attento che non prendi i contropiedi. Io ho detto, secondo te abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, non l'abbiamo fatto e questa è la differenza. Io vorrei chiederti come hai visto l'episodio del rigore, perché se non sbaglio Ronaldo a Sky ha detto che non c'era. Questo è molto difficile, perché io penso che Gesù vede molto tardi la palla e va sul mano. Io penso che lui non può fare niente. L'arbitro è lasciato giocare, dopo è ripensato, è dato rigore, ma è difficile. Io credo che non fa a posto sicuramente Gesù. Avete perso tanti punti in casa con squadre non di primo livello. Sì. Sì, è vero. Come mai questo? Come mai? Non lo so neanche io, perché troviamo un po' difficoltà contro queste squadre, perché quando giochiamo contro le più grandi squadre facciamo abbastanza bene, contro queste un po' meno, ma come ho detto abbiamo avuto oggi le nostre occasioni e non abbiamo fatto gol.